Partiamo col primo video, l'unica cosa che posso dire è in questa selezione di opere video cerco di presentare il femminile in diverse tipologie, per cui il primo video si intitola appunto mammina, il soggetto ha questo legame con questo ruolo che la donna spesso assume. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il secondo video invece si intitola Piccole donne crescono e quindi l'attenzione è più focalizzata sull'intensità delle emozioni che comunque si provano in una fase di metamortosi, se vogliamo appunto definirla così. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.